Le strutture ricettive turistiche operanti in Sicilia dovranno dotarsi del CIR, il codice identificativo regionale che è stato introdotto da un decreto dell'assessore regionale al turismo Manlio Messina. Si tratta di un provvedimento che mira a garantire un'offerta turistica trasparente sul territorio e a contrastare forme irregolari di ospitalità. Il provvedimento è stato presentato dall'assessore Messina e dal presidente di Federalberghi Sicilia Nico Torrisi. Il CIR si rivolge a tutte le strutture ricettive compresi gli agriturismo, gli alberghi diffusi, i condhotelli e malina resort, ma anche agli alloggi per uso turistico in affitto per brevi periodi inferiori a 30 giorni, comprese le case vacanza. Il CIR verrà attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici turistat istituito con decreto assessoriale del 2014 e dovrà essere indicato sulle pagine web e su tutto il materiale promozionale accanto alla denominazione delle strutture stesse. I titolari e responsabili delle strutture già esistenti dovranno fare richiesta del codice attraverso l'apposita sezione della piattaforma. Quelle di nuova istituzione dovranno inviare a turistat la copia della certificazione di inizio attività già inviata al comune e richiedere l'inserimento in anagrafica e il rilascio del codice. Per le case vacanze il progetimento è simile, sia quelle già esistenti sia le nuove dovranno registrarsi in turistat, chiedere l'inserimento in anagrafica e il rilascio del CIR. Per i titolari scatta anche l'obbligo di comunicare giornalmente ento 24 ore dall'arrivo o dalla partenza tramite il sistema di gestione dei flussi turistici turistat i dati relativi agli arrivi alle partenze a fini statistici. Chi non adempia rischia una sanzione da 500 a 5.000 euro.